Continua il Napoli la sua rincorsa verso lo scudetto oggi sicuramente faticando molto di più rispetto al solito oggi sicuramente facendo una partita certamente più tosta rispetto a quella vista qualche giorno fa quelle viste fino ad oggi perché poi il Napoli ha sempre lungamente dominato le partite giocate oggi per la prima volta c'è stata un'inversione di marcia perché di fronte ha avuto un Bologna che se l'è giocata alla pari ha avuto un Bologna che se l'ha giocata a visaperto ha avuto un Bologna che ce l'ha messa tutta alla fine il Napoli vince ma non possiamo dire che non abbia faticato datemi un momento perché voglio prima di iniziare a parlare della partita ricordarvi di acquistare Guida ai mondiali e guida completa ai mondiali di calcio in Qatar 2022 il mio libro quindi acquistatelo ragazzi dai che tra poco inizia il mondiale sarebbe carino se voi lo acquistaste acquistaste come cazzo dice sarebbe insomma carino se voi ci faceste un pensierino allora ve lascio il link in descrizione detto ciò detto ciò come ho detto oggi per l'Inter anche per il Napoli più o meno vale la stessa situazione il Napoli che è stanco si vede che è stanco nonostante in realtà il Napoli a differenza di tutte le altre squadre anche da stanco gioca un calcio che io mi sento dei ditte fermate cioè anche da stanco il Napoli ragazzi fa un gran calcio anche da stanco il Napoli sa giocare a pallone poi la forza vera e grande del Napoli proprio la forza gigantesca del Napoli è quella di saper mettere in difficoltà ogni difesa tagliandola in due con palloni verticali cioè si infila veramente come nulla e credo che in questo gioco nel gioco del calcio che il Napoli fa un calciatore che possa essere centrale davvero si era Spadori poi ovviamente il gol del 3 a 2 Osiman quella è proprio l'idea di quello che sto parlando ti puntano dribbling ti superano palla dentro di un filare e nell'inserimento va magari a far gol il calciatore del momento in realtà però il Napoli dopo 40 minuti di provo 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 va sotto e va sotto come? Va sotto con l'ariti di Zirk Zee che io ricordo molto volentieri al Bayern Monaco si diceva un gran bene di questo attaccante che poi in realtà non ha mai fatto il vero salto di qualità quello che ci aspettavamo tutti quanti me lo ricordo al Parma adesso al Bologna se non sbaglio addirittura il Bologna credo l'abbia preso a titolo definitivo succede che Cambiaso si infila e io continuo a ripetere come ormai dico da diverso tempo che la Juventus ha deciso di comprare Cambiaso e poi di regalarlo in prestito al Bologna tenendosi Alexandro poi si lamentano se insomma le cose non vanno bene io penso che delle cose veramente ve le meritiate ampiamente oggi Cambiaso si infila in area riceve il pallone la mette dentro eccolo lì Zirk Zee che va a fare in girata si gira Giru no si gira Zirk Zee 1 a 0 al 41esimo il gol che in qualche modo rischia poi di rovinare quello che potrebbe essere il secondo tempo del Napoli non mi ricordo in quale situazione forse nel video di ieri dell'Atalanta o forse in qualche video di oggi visto che ho parlato anche del classico sul canale Simone Siccol ho parlato anche della Lazio però della Lazio non ce ne sono stati il gol del 1 a 0 può un po' stroncare le gambe al Napoli perché lo prende a pochi minuti 4 minuti dalla fine del primo tempo e il gol che prendi a 4 minuti dalla fine del primo tempo a mio avviso rischia veramente di tagliarti le gambe se non fosse però che allo scadere il Napoli la riprende il Napoli è caparbio il Napoli ci prova il Napoli ha palle per provarci batte questo calcio d'angolo politano la palla resta lì batti e ribatti arriva sul piede di Juan Jesus di Giovanni Gesù che calcia di destro e fa gol fa il gol dell'1 a 1 fa il gol che riequilibra la partita e che permette al Napoli di riprenderla immediatamente è un gol pesante e tra l'altro voglio anche dire come il Napoli gioca bene 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 anche nelle difficoltà perché quelle di oggi a mio avviso sono definibili assolutamente difficoltà nelle difficoltà il Napoli comunque riesce a giocare bene riesce a dimostrare sempre la propria forza quindi una forza fatta da calciatori di qualità calciatori che sanno andare in profondità tagli, palloni dentro il Napoli gioca veramente bene ma soprattutto è un Napoli che manda in gol tanti calciatori Juan Jesus è un esempio e che anche sul gol di Juan Jesus sulla braccia a parte che Jesus dovunque va io lo dico da romanista ce l'ho avuto diverso tempo Jesus si fa sempre amare cioè lui ce l'ha proprio come prerogativa a Jesus ovunque va si fa amare ma al di là di questo proprio c'è gruppo c'è gruppo nel secondo tempo ci sono dei cambi perché se nel primo tempo a me Raspadori non mi era dispiaciuto per gli inserimenti ma probabilmente aveva dimostrato ampiamente di essere poco concreto ecco nel secondo tempo il mister Spallesi decide di togliere Raspadori per buttare dentro Osiman che insomma era mancato a questo Napoli Osiman in realtà fino a un certo punto devo dire nel senso Osiman è un giocatore fortissimo però dire che era mancato rischia di render poco giustizia a quelli che hanno tenuto caldo il posto a Osiman perché Simone ragazzi ogni volta che ha giocato ha fatto gol a Raspadori ogni volta che ha giocato ha fatto gol ed entrambi Simeone e Raspadori hanno trascinato il Napoli ad un eventuale primo posto eventuale attuale primo posto perché il Napoli oggi è primo se il Napoli a Finano dovesse trovarsi nella stessa posizione gran merito sarebbe di loro di quei giocatori che sono rimasti lì fatto sta che entra anche Lozano al posto di Politano e questi due perché sottolineo questi due cambi? perché sono i cambi che realmente svoltano il match del Napoli succede dopo 5 minuti che il Napoli manco in realtà 4 in realtà che il Napoli va in vantaggio non torna perché non c'era mai andato va in vantaggio per la prima volta Mario Rui che aveva anche preso la traversa che quest'anno veramente sembra Marcello ma è Mario Rui serve Kvaraschelia palla a Kvaraschelia vince un rimpallo tira Korupski è molto bravo perché riesce a non prendere gol in quel caso la palla arriva a Lozano che in realtà non so come abbia fatto perché ragazzi lì non si vedeva un cazzo nel senso che davanti c'ha 8 persone davanti la porta riesce a tirare e a buttare la palla dentro la palla supera la linea entra in porta è il gol del 2-1 Lozano dopo 4 minuti che è entrato in porta fa gol e questo è un cambio azzeccato questo è un cambio azzeccato questi sono punti per spalletti che vanno a riempire a colmare positivamente la pagella del tecnico di Certaldo però la squadra di Bologna il Bologna la squadra dell'Emilia Romagna non muore mai il Bologna fa gol dopo 2 minuti la ripareggia devo dire anche una cosa devo dire anche una cosa il pareggio è meritato perché il Bologna ci prova si getta in avanti non lascia nulla al caso e nonostante il Napoli sia una squadra tecnicamente invidiabile da tutti invidiata da tutti e mostruosa perché poi io ripeto che il Napoli gioca un tocco gioca un tocco la toccano tutti arriva in porta il Bologna comunque rimane sempre lì e ci prova molto però come vi ho detto il gol del 2-2 è da sottolineare che avviene grazie a una papera di Meret perché quella è una papera di Meret cioè che se ne dica quella è una papera di Meret Barro tira da casa sua Meret è lì in realtà il problema qual è? che voleva fare troppo e ha fatto malissimo perché lui prova a bloccarla quindi esce per bloccare questa palla però la palla gli rimbalza davanti le mani gli si piegano gli finisce dietro per la sua disperazione il gol del 2-2 io credo che lì un pochino Meret abbia rivisto e vissuto i fantasmi che aveva già vissuto pesantemente qualche mese fa se il Napoli non avesse vinto questa partita probabilmente Meret avrebbe tanto sul groppone ma il Napoli ha un allenatore che azzecca tutti i gambi e ha un calciatore straordinario è Kvaraschelia dopo che Kvaraschelia è stato attivamente protagonista nel gol del 2-1 grazie al tiro su disco contro Skorowski parata e poi gol del messicano Lozano Kvaraschelia invece in questo caso riceve questa palla sulla tre quarti campo vedi il movimento di Ozyman difficilissimo perché Ozyman è bravissima ad inserirsi ma in realtà ci sono credo Bonifazzi e Posh credo o Lukumi e Bonifazzi non ricordo forse no Bonifazzi e Lukumi ci sono Bonifazzi e Lukumi lui gli finisce in mezzo Kvaraschelia che dà il pallone esattamente quel tanto che basta per servirlo tra quei due Ozyman di prima con il mancino segna tra l'altro bugando Skorowski la palla gli passa sotto le gambe e questo è il gol che poi regalerà la vittoria al Napoli è in realtà secondo me una vittoria super pesante super pesante perché il Napoli aveva un bisogno disperato di vincere visto che l'Atalanta in realtà ieri ha giocato ha vinto contro il Sassuolo ne ho parlato anche dello sfortunato infortunio di Domenico Berardi l'Atalanta era schizzata prima in classifica si sta facendo una corsa a due e clamorosamente la corsa a due è tra Napoli e Atalanta tra l'altro voglio ancora sottolineare una cosa che secondo me è ancora di più clamorosa è che in questo momento storico Milan Inter e Juve sono fuori dalle prime quattro e che il podio anzi nel quadro strano nei Champions è molto strano perché Atalanta è seconda e nessuno la dava in Champions la Lazio è terza e nessuno la dava in Champions l'Udinese è quarto e nessuno la dava in Champions il Napoli è primo beh che il Napoli comunque anche l'anno scorso era arrivato terzo però dopo il mercato fatto le partenze di Mertens Coulibaly Insigne eccetera insomma lasciavano poche speranze dei fosi del Napoli invece è lì detto ciò devo anche dire che se la Roma vince va a 22 se il Milan vince va a 23 quindi se le due squadre che ho appena citato dovessero vincere il podio poi sarebbe Napoli 26 Atalanta 24 Roma 20 Milan 23 scusatemi Roma 22 e quindi in questo caso Lazio-Udinese per colpa se colpa di colpa si può parlare del pareggio di oggi si escluderebbero dopo le prime 10 dalle prime 4 dalle prime 10 giornate dalle prime 4 del campionato però va detto comunque che con le due devono ancora giocare sia Milan che gioca stasera sia la Roma che gioca domani alle 18.30 e che invece il Napoli un Napoli spettacolare che io ragazzi vedo solo segni verdi ti dà una vita continuo a vincere 8 vittorie 2 pareggi oggi fatica perché oggi fatica ma alla fine la vittoria arriva lo stesso e allora i miei grandi complimenti vanno a loro vanno a Luciano Spalletti vanno al gran lavoro che il Napoli sta facendo non vanno alla mia fotocamera che non mi metta a fuoco non so perché ma noi siamo arrivati alla conclusione io vi dico la verità rega io il Napoli quest'anno mi sta a parte se mi mettesse a fuoco la telecamera sarebbe anche meglio vabbè vai basta mi sono stufato ciao rega ciao